messaggio per la collettività da parte dell'universo una carta per mazzo due parole che formeranno un messaggio unico canalizzato da me da parte dell'universo abbiamo la parola difesa difendere e la parola empatia sono aperta a vedere entrambi le parti della situazione i lati la situazione le parli si entrambe diciamo le parti della di una situazione cioè praticamente sapete che in ogni cosa siccome c'è il dualismo ok viviamo in universo dove esiste il dualismo bene male notte giorno piacere dolore e così via abbiamo sempre nel seme del negativo un seme del positivo e nel seme del positivo un seme del negativo e a seconda di quello su cui ci concentreremo se diamo ascolto al nostro ego sicuramente ci concentreremo sulla parte sul mezzo bicchiere il famoso mezzo bicchiere vuoto se ci concentriamo ascolto all'universo sicuramente guarderemo il bicchiere mezzo pieno l'universo oggi il messaggio è difendi difenditi da la visione negativa da o meglio ancora sì la visione negativa del tuo ego o meglio difenditi dal fatto che il tuo ego ti fa focalizzare su quello che non va su quello che non hai su quello che ti manca quindi tenendoti in un loop negativo energetico negativo che ti fa quindi creare nella tua realtà altre circostanze negative altra negatività difenditi da la visione ristretta limitata circoscritta del tuo ego prova a guardare l'altra parte che il tuo ego a cui il tuo ego ti rende cieco o cieca in ogni cosa in ogni cosa per legge appunto divina della dualità c'è il seme del positivo e il seme del negativo su cosa ti concentrerai su quello su cui ti concentrerai vedrai fiorire vedrai germogliare quindi difenditi difenditi e non è un caso che oggi ho scelto la pietra la pirite che viene chiamato l'oro degli stolti viene chiamato perché sembra oro ma oro non è quindi non fatevi abbindolare da ciò che il vostro ego vi dice non fatevi assolutamente abbindolare da ciò che il vostro ego vi dice che è così punto è questo è questa la verità è questo che non manifesterai non otterrai è questo la il tuo punto limite non è affatto vero siate aperti a guardare un'altra prospettiva quella del vostro spirito dategli ascolto poiché quella del vostro spirito è una prospettiva positiva illimitata che non vi tiene stagnanti ma vi porta avanti pace amore ed energia